Grazie a tutti Terza Seconda Quinta Quarta Terza Seconda Prima Terza Seconda Prima Quarta Terza Seconda Prima Quarta Terza Seconda Prima Quinta Quarta Terza Seconda Prima Prima Seconda Terza Quarta Prima Quinta Quarta Terza Seconda Prima Quarta Quinta Quinta Terza Seconda Prima Quarta Quinta Terza Seconda Prima Prima Quinta 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 Terza Prima 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 Quinta Quarta Terza Seconda Prima Quinta 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 Terza Seconda Prima Trazione Prima Trazione Quinta Quinta Quarta terza seconda prima possiamo andare? no c'è la trazione? no la sua no quinta quarta terza seconda prima quinta quarta terza seconda prima quinta quarta terza seconda prima quinta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti